vivere per la felicità dell'altro, per l'altra, vivere per la realizzazione di questo sogno soltanto così potrete trovare la felicità vera, non so se vi ho svelato un segreto ma è scritto tutto nel Vangelo, quella roccia su cui dovete costruire il vostro avvenire sarete un riferimento l'uno per l'altro e così diventerete un riferimento per i figli che Dio vorrà donarvi e perché no, anche per gli amici e per coloro che vi stanno attorno e che resteranno stupiti e ammirati dal vostro comportamento, un comportamento nuovo, diverso, perché illuminato ed acceso dalla fede, dalla speranza e dall'amore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti